Il lungo messaggio di coach Franco Lepre della New Basket Agropoli rende ancora più tangibile l'attaccamento ai colori della propria città. Il coach ha scritto a tutti e per ognuno ha usato parole di riconoscenza. All'indomani della nostra sconfitta a Dischia, nella semifinale play-off per accedere alla Serie B, si legge nella nota, volevo dire grazie al presidente Angelo Farese per la possibilità che mi ha dato di allenare nella mia città per tutto il supporto che mi ha dato in questi mesi in cui abbiamo dovuto affrontare tantissime difficoltà insieme. Un grazie al mio amico Pompeo che ha fatto un grandissimo lavoro indispensabile per far sì che tutto funzionasse bene e non ci ha fatto mai mancare niente. Un grazie a Dino e Nunzia che oltre ad essere sempre presenti ad ogni allenamento hanno gestito tutta la parte amministrativa relativa alla federazione, sempre con grande scrupolosità e precisione. Grazie a tutti i dirigenti, Natale, Pasquale, Francesco, Angelo, Antonio, mi scuso se ho dimenticato qualcuno e sicuramente l'ho fatto, che ci sono stati sempre vicino in questi mesi, grazie al sindaco Adamo Coppola che non ci ha lasciati mai soli ed è stato sempre disponibile alle esigenze della società, grazie allo studio fisiomedica che ha curato i nostri atleti sempre in modo professionale, grazie alla dottoressa Rosetta Di Buono per la gestione dei tanti tamponi richiesti dai protocolli Covid-19 e a Marta che è stata sempre gentilissima, grazie ai nostri addetti alla comunicazione Andrea Passaro e Danilo Perillo e al nostro fotografo Angelo Gasparro, grazie a Gianni Petrizzo, a Cilento Channel, grazie a loro siamo riusciti ad arrivare nelle case degli agropolesi, anche lontani, a cui ha fatto molto piacere seguire la squadra della propria città. Grazie a tutto lo staff tecnico Fabrizio, Antonio, Domenico, Enzo che in questi mesi ha dovuto gestire mille situazioni, ma sempre cercando di dare il massimo e sempre con la massima professionalità. Ultimo grazie nella citazione, ma primo per distacco, continua Franco Lepre, alla mia squadra. Quest'anno ho avuto la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi super, sotto tutti i punti di vista, sempre disponibili, pronti a giocare anche se infortunati, pronti ad allenarsi sempre e mai risparmiarsi. Hanno dato tutto quello che avevano fino all'ultimo secondo e di questo devo solo dire grazie a Gigi, Marco, Peco, Vale, Arturo, Peppe, Amedeo, Francesco, Pippo e tutti gli under che a turno ci hanno dato un grandissimo aiuto negli allenamenti. Vincenzo, Davide, David, Manuel, Giuseppe, Kevin. Dal canto mio spero di aver fatto un buon lavoro, ma sicuramente mi resta l'orgoglio di aver allestito una squadra grazie al supporto del mio amico Angelo Farese e di tutta la società con tanti ragazzi di Agropoli che hanno dimostrato di poter giocare e poter stare da protagonisti in questo campionato. Scusate se mi sono dilungato, ma vivo questa squadra e questo ambiente come la mia famiglia e sentivo il bisogno di scrivere quello che penso in questo momento. La redazione di Cilento Channel si associa ai ringraziamenti di Franco Lepre e a tutte le persone che in qualche modo ed occasione hanno mostrato vicinanza alla squadra e a una grande società.